Dalla centrale Luce Verde, in collaborazione con la Regione Lazio e Laci, buongiorno e ben ritrovati da Maria Barbara Taormina. In primo piano servizio rallentato sulla linea metro A nella tratta Nagnina-Arco di Travertino per un intervento di manutenzione. Le linee tram 3 e 19 sono interrotte per ingombro di un binario in piazza Ungheria. In via di risoluzione ormai disagi sulla linea tram 8 all'altezza di Trastevere per un precedente guasto tecnico. Per quanto riguarda la viabilità, sul tratto urbano della 24 Roma Termo, disagi tra Porto Naccio e la Tangenzia Leste in direzione della Capitale. Sul grande raccordo anulare, file tra via Caslina e via Ardiatina lungo la careggiata interna, anche per la riduzione di careggiata tra Ciampino fino alla via Appia. Rallentamenti poi sulla dinamazione Roma-Sud all'altezza del raccordo anulare. Sulla Roma-Fiumicino permangono le code all'altezza di via della Maiana in direzione del Leo. Su via Cassia si rallenta tra via Bracenese e via Tronfale, sulla via Appia tra Frattocche e Bivio per Cava dei Selci. Mentre sulla Nettunense i rallentamenti sono all'altezza di Pavona e di Cecchina. Su via Pontina, a causa di un restringimento di careggiata, rallentamenti all'altezza dello svincolo apriliana. Ancora sospesa è infine la ferrovia regionale Termini-Giardinetti fino alle 11.30 tra Centocelle e Termini. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto.